Ben trovati amici del Centrometro Italiano. Breve tregua del maltempo sull'Italia con la rimonta di un promontorio di alta pressione. Vediamo quindi nel dettaglio le previsioni per giovedì 29 novembre. Al mattino tanto sole salvo qualche innocua nube al sud e al nord ovest. Al pomeriggio ancora tempo asciutto con cieli sereni o poco nuvolosi in Italia. Maggiori addensamenti solo sulle regioni settentrionali. In serata e inottata nubi sparse da nord a sud alternate ad ampie schiarite sempre con tempo stabile su tutti i settori. Concludendo con le temperature minime in generale diminuzioni mentre le massime tenderanno ad aumentare al centro sud. Tutte le previsioni dettagliate per le vostre località le trovate sia sul nostro sito oppure sulla nostra app Meteo. Un saluto da parte del Centrometro Italiano. Grazie a tutti.